Piper La guida di Ercole al mare Nostrum non fu di grande aiuto contro i serpenti e le zanzare. «Se è un'isola magica, perché per una volta non potrebbe essere una bella isola magica?» brontolò Piper. Si inerpicarono lungo una collina e scesero in una valle fitta di alberi, stando attenti a evitare i serpenti a strisce rosse e nere che prendevano il sole sulle rocce. Le zanzare sciamavano sui laghetti stagnanti nelle zone più basse. Gli alberi erano per lo più olivi, cipressi e pini. Il frinire delle cicale e il caldo primente ricordarono a Piper, la riserva in Oklahoma durante l'estate. Fino a quel momento non avevano trovato nessun fiume. «Potremmo volare», suggerì di nuovo Jason. «Ma rischieremo di perderci qualcosa», replicò Piper. «E poi non sono sicura di voler piombare all'improvviso su un dio ostile. Com'è che si chiama? Acaro? A che l'ho?» Jason tentava di camminare e leggere la guida in contemporanea, per cui continuava a sbattere contro gli alberi e a inciampare sui sassi. «Qui dice che è un potamus». «Un ippopotamo?» «No, un potamus!» «Un dio fluviale!» «Stando alla guida, è lo spirito di un fiume in Grecia». «Visto che non siamo in Grecia, si sarà trasferito, immagino», commentò Piper. «Se continua così, non mi pare che questo libro ci sarà molto utile. C'è altro?» «Dice che Ercole ha combattuto contro di lui una volta. Ercole ha combattuto contro il 99% di tutto ciò che esisteva nell'antica Grecia». «Già, vediamo un po'. «Le colonne d'Ercole». Jason giro pagina. «Dice che su quest'isola non ci sono alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto. Attrazioni, Ercole e due colonne». «Ehm, questo è interessante. A quanto pare, il simbolo del dollaro, sai, la S con le due linee sopra, deriva da uno stemma spagnolo, su cui c'erano le colonne d'Ercole con uno stendardo arrotolato nel mezzo». «Fantastico», pensò Piper. «Jason finalmente va d'accordo con Annabeth, le cui intuizioni geniali cominciano a contagiare anche lui». «Niente di utile», domandò Piper. «Aspetta, c'è un minuscolo riferimento ad Akelo. Questo dio fluviale combatté contro Ercole per la mano della bella Dejanira. Durante la lotta, Ercole spezzò uno dei corni di Akelo, che divenne la prima cornucopia». «Cornucché? È quella decorazione che ogni tanto si usa per le feste», spiegò Jason. «Il corno con tutte le prelibattezze che traboccano, hai presente? Ne abbiamo alcune nella mensa del Campo Giove. Non avevo idea che quella originale fosse in realtà il corno di qualcuno». «E noi dovremmo prendergli l'altro corno? Immagino che non sarà molto semplice». Piper aggrottò la fronte. «Chi era Dejanira?» «La moglie di Ercole», rispose Jason. «Qui non lo dice, ma credo che le sia successo qualcosa di brutto». A Piper tornò in mente quello che Ercole aveva detto. «La morte della prima moglie e dei loro otto figli. La seconda moglie, morta a suicida dopo essere stata convinta con l'inganno ad avvelenarlo. Quella missione la convinceva sempre meno. Camminavano lungo un crinale tra due colline, cercando di stare all'ombra, ma Piper era già sudata fratica. Le zanzare la riempirono di ponfi su caviglie, braccia e collo. «Probabilmente assomiglio a una vittima del vaiolo», si disse. Finalmente era riuscita a stare un po' di tempo da sola con Jason e le toccava trascorrerlo in quel modo. Un po' ce l'aveva con lui perché aveva nominato Hera, ma sapeva che non era colpa sua. Forse era arrabbiata con lui in generale. Da quando avevano lasciato il campo Giove, lei si portava dietro un sacco di preoccupazioni e di risentimento. Si domandò cosa avesse voluto dirle Ercole sui figli di Zeus. Non erano affidabili? Subivano troppa pressione? Piper tentò di immaginare Jason che alla sua morte si trasformava in un dio, per poi finire su una spiaggia a sorvegliare l'imbocco di un mare, parecchio tempo dopo che erano scomparse lei e tutte le altre persone che Jason aveva conosciuto durante la vita terrena. Si domandò se Ercole fosse mai stato solare come Jason. Più allegro, sicuro, facile da consolare. Era difficile immaginarselo così. Mentre scendevano nella valle successiva, Piper si chiese cosa stesse succedendo sul Largo 2. Era tentata di inviare un messaggio iride, ma a Ercole gli aveva avvisati di non contattare gli amici. Sperava che Annabeth intuisse quello che stava accadendo e non tentasse di mandare un'altra delegazione a riva. Non sapeva come Ercole avrebbe reagito se lo avessero scocciato ancora. Immaginò Edge che si spazientiva e puntava una balista contro il dio vestito di porpora, oppure gli Eidolon che possedevano i membri dell'equipaggio e li costringevano a suicidarsi per mano di Ercole. La figlia di Afrodite era brividi. Non sapeva che ora fosse, ma il sole stava già cominciando a tramontare. Possibile che la giornata fosse trascorsa così alla svelta. avrebbe apprezzato volentieri il tramonto per il calo della temperatura. Peccato che fosse anche la loro scadenza. Una fresca brezza notturna non avrebbe avuto molto senso da morti. E poi il giorno dopo era il primo del mese, le calende di luglio. Se le loro informazioni erano esatte, sarebbe stato l'ultimo giorno di vita di Nico di Angelo, nonché il giorno in cui Roma sarebbe stata distrutta. «Ferma», disse Jason. Piper non capì cosa c'era che non andasse. Poi sentì scorrere dell'acqua poco più avanti. Si infilarono tra gli alberi e si ritrovarono sulla riva di un fiume. Era largo più di dieci metri, ma profondo poche decine di centimetri. Una lastra d'acqua argente che scendeva in un alvio di pietre. Qualche metro più in giù, il fiume si tuffava con delle rapide, in un ampio specchio d'acqua blu. C'era qualcosa nel fiume che la turbava. Le cicale sugli alberi si erano mutolite. Gli uccelli non cinguettavano. Era come se l'acqua stesse tenendo una conferenza e tollerasse solo la propria voce. Ma più Piper ascoltava, più il fiume le sembrava invitante. Le venne voglia di bere. Forse doveva togliersi le scarpe. Le avrebbe fatto proprio bene tenere i piedi un po' a mollo. E quello specchio d'acqua? Sarebbe stato molto bello tuffarsi insieme a Jason e rilassarsi all'ombra degli alberi, galleggiando piacevolmente nell'acqua fresca. Sarebbe stato così romantico. Piper si riscosse. Quei pensieri non erano da lei. C'era qualcosa che non andava. Sembrava quasi che il fiume utilizzasse la lingua maliatrice. Jason era seduto su una roccia e si stava togliendo le scarpe. Guardò lo specchio d'acqua e sorrise come se non vedesse l'ora di tuffarsi. «Piantala!» gridò al fiume la figlia di Afrodite. Jason rimase sconcertato. «La pianto di fare cosa?» «Non tu!» replicò Piper. «Lui!» Si sentì stupida a indicare l'acqua, ma era sicura che il fiume stesse compiendo una specie di magia, influenzando le loro emozioni. Stava cominciando a pensare di essere impazzita, e che presto Jason glielo avrebbe fatto notare, quando il fiume disse «Perdonatemi, il canto è uno dei pochi piaceri che mi sono rimasti». Una sagoma emerse dall'acqua, come sollevata da un montacarichi. Piper si irrigidì. Era la creatura che aveva visto nella lama di Catoptris, il toro con il volto di uomo. La sua pelle era azzurra come l'acqua. Gli zoccoli levitavano sulla superficie del fiume. Attaccata al collo bovino, c'era la testa di un uomo, con neri capelli ricci e corti, e una barba pettinata in boccoli, come quella degli antichi greci. Gli occhi, profondi e tristi, erano nascosti dietro un paio di occhiali bifocali, mentre la bocca sembrava costantemente imbronciata. Dal lato sinistro della testa spuntava un unico corno taurino ricurvo, come quelli che i guerrieri usavano come coppe. Per lo squilibrio teneva la testa inclinata a sinistra, per cui sembrava che stesse cercando di togliersi l'acqua da un orecchio. «Salve!» esordì con aria tetra. «Siete venuti per uccidermi, suppongo.» Jason si rimise le scarpe e si alzò lentamente in piedi. «Eh... beh... no!» intervenne Piper. «Mi dispiace, è imbarazzante. Non volevamo disturbarti, ma ci ha mandato Ercole.» «Ercole?» sospirò l'uomo toro. Scalpitò sull'acqua, come se fosse pronto ad andare alla carica. «Per me sarà sempre Eracle e il suo nome in greco, la gloria di Hera.» «Che nome strano!» osservò Jason, considerato che lui la detesta. «Forse è per questo che non ha protestato quando i romani l'hanno ribattezzato Ercole», disse l'uomo toro. «È il nome con cui lo conosce la maggior parte della gente. Il suo marchio di fabbrica, se volete.» «Ercole è attentissimo alla propria immagine.» L'uomo toro parlava con un tono triste e familiare al contempo, come se Ercole fosse un vecchio amico che aveva smarrito la strada. «Tu sei Akelou?» domandò Piper. «Al vostro servizio.» L'uomo toro piegò le zampe anteriori e abbassò la testa in un inchino, gesto che la ragazza trovò al tempo stesso dolce e un po' triste. «Eminente dio fluviale. Un tempo, lo spirito del fiume più potente della Grecia. Ora condannato a vivere qui, sul lato opposto dell'isola controllata dal mio antico nemico. Oh, gli dèi sono crudeli, ma non ho mai capito se ci abbiano messo così vicini per punire me o Ercole.» Piper non era sicura di cosa intendesse dire, ma il rumore di sottofondo del fiume le si era insinuato di nuovo nella testa, ricordandole quanto caldo e quanta sete aveva e quanto sarebbe stata piacevole una bella nuotata. Cercò di concentrarsi. «Io sono Piper e lui è Jason. Non vogliamo combattere. È solo che Ercole... Eracle, o comunque si chiami, si è arrabbiato con noi e ci ha spediti qui.» Raccontò della loro impresa nelle antiche terre per impedire che i giganti svegliassero Gea. Spiegò come fosse stata radunata la squadra di greci e romani e di come Ercole avesse avuto un attacco d'ira, quando aveva scoperto che dietro tutto ciò c'era la mano di Hera. Achelò continuava a inclinare la testa a sinistra, per cui Piper non capiva se si stesse appisolando o lottando contro l'affaticamento da monocorno. Quando lei ebbe finito, il dio la guardò come se le fosse comparsa una spiacevole eruzione cotanea su tutto il corpo. «Ah, mia cara, le leggende sono vere, sai? Gli spiriti, i cannibali d'acqua...» Piper dovette reprimere un gemito. Non gli aveva raccontato niente di tutto questo. «Come le divinità fluviali sanno molte cose», disse Achelò. «Aimè, ti stai concentrando sulla storia sbagliata. Se tu fossi riuscita ad andare a Roma, la storia dell'inondazione ti sarebbe servita di più. Piper?» domandò Jason. «Di cosa sta parlando?» I pensieri di Piper all'improvviso si mescolarono alla rinfusa, come i colori di un calidoscopio. «La storia dell'inondazione? Se ce l'avessi fatta ad andare a Roma?» «Non lo so», rispose, «anche se l'accenno all'inondazione non le giungeva nuovo». «A che l'ho? Non capisco...» «No, non capisci», concordò il Dio del fiume in tono comprensivo. «Poverina! Un'altra ragazza impelagata con un figlio di Zeus!» «Aspetta un attimo», intervenne Jason. «È Giove a dire il vero. E per quale motivo sarebbe una poverina?» «Il Dio lo ignorò». «Ragazza mia, sai il motivo del mio litigio con Ercole?» «È stato per una donna», ricordò Piper. «Dei Anira?» «Esatto». A che l'ho trasse un sospiro profondo. «E sai cosa l'è capitato?» «Eh...» Piper lanciò un'occhiata a Jason. Lui tirò fuori la guida e cominciò a sfogliare le pagine. In realtà non...» A che lo sbuffò indignato. «Che cos'è quello?» «È solo... la guida di Ercole al mare Nostrum. Ce l'ha data per...» «Quello non è un libro», disse il Dio. «Ve l'ha dato solo per farmi innervosire, giusto? Sa che detesto queste cose!» «Detesti... i libri?» domandò Piper. «No!» La faccia di Achelò avvampò e la sua pelle, da azzurra, divenne color melanzana. «Quello non è un libro!» diede una zampata sull'acqua. Un rotolo di pergamena schizzò dal fiume come un razzo in miniatura e atterrò davanti a lui. Achelò lo aprì con gli zoccoli. La pergamena ingiallita e corrosa dal tempo si srotolò. Era ricoperta di scritte sbiadite, in latino, e di complicate immagini dipinte a mano. «Questo è un libro!» esclamò il Dio. «Oh, il profumo di carta pecora!» «La sensazione raffinata del rotolo che si apre sotto i miei zoccoli!» «Semplicemente non si può pensare di riprodurlo con una cosa come quella!» hanno indignato guardando la guida che Jason teneva in mano. «Voi giovani d'oggi, con i vostri marchigegni stravaganti, pagine rilegate, piccoli riquadri compatti di testo che non sono adatti agli zoccoli!» «Quello è un libro rilegato, un art book al massimo, ma non un libro tradizionale!» «Non sostituirà mai il buon vecchio rotolo di pergamena!» «Lo metto subito via!» Jason infilò la guida nella tasca posteriore, come se stesse rinfoderando un'arma pericolosa. Il Dio sembrò placarsi un po'. Piper tirò un sospiro di sollievo. Ci mancava solo che fosse travolta da un toro con un solo corno, ossessionato dai rotoli di pergamena. «Allora...» Acherò diede un colpetto su un'immagine sopra il rotolo di pergamena. «Lei è Dejanira!» Piper si inginocchiò a guardare. Era un ritratto di dimensioni ridotte, ma lei intuì che Dejanira doveva essere stata una donna molto bella, con lunghi capelli castani, occhi scuri e un sorriso. allegro che probabilmente aveva fatto impazzire gli uomini. «La principessa di Calidone», continuò il Dio del fiume in tono funereo. «Era la mia promessa sposa finché Ercole non si è intromesso. Ha voluto combattere a ogni costo contro di me. E ti ha spezzato un corno», tirò a indovinare Jason. «Sì, non potrò mai perdonarlo per questo. È tremendamente scomodo avere un corno solo. Ma per la povera Dejanira le cose sono andate molto peggio. Avrebbe potuto vivere una vita lunga e felice, se mi avesse sposato. «Un toro dalla testa d'uomo che abita in un fiume», disse Piper. «Esatto», concordò Akelo. «Sembra impossibile che mi abbia rifiutato, no?» «Invece è fuggita con Ercole. Ha preferito l'eroe bello e impetuoso al marito buono e fedele che l'avrebbe trattata con i guanti. Cos'è successo dopo? Beh, lei avrebbe dovuto immaginarlo. Ercole era troppo preso dai propri problemi per essere un bravo marito. Aveva già ucciso una moglie, sapete. Hera lo maledisse e così lui perse il controllo e sterminò tutta la famiglia. Una cosa orribile. È per questo che dovette compiere le famose dodici fatiche come penitenza. Piper era estirrifatta. Hera gli ha fatto perdere la testa ed Ercole ha dovuto fare la penitenza. Akelo scrollò le spalle. A quanto pare, i dèi dell'Olimpo non pagano mai per i loro crimini. Ed Hera ha sempre odiato i figli di Zeus. O di Giove, che dir si voglia. Lanciò un'occhiata sospettosa a Jason. In ogni modo, la mia povera Dejanira fece una fine tragica. Divenne gelosa delle tante amanti di Ercole. Lui andava in giro a divertirsi per il mondo, proprio come suo padre Zeus, e flirtava con tutte le donne che incontrava. Alla fine Dejanira era così disperata da prestare ascolto a un consiglio scellerato. Un astuto centauro di nome innesso le aveva detto che, se voleva costringere Ercole a esserle fedele per sempre, avrebbe dovuto spargere sangue di centauro dentro la sua veste preferita. Purtroppo Nesso le aveva mentito, perché voleva vendicarsi di Ercole. Dejanira seguì le sue indicazioni, ma invece di trasformare Ercole in un marito fedele... Il sangue di centauro è un acido, commentò Jason. Il dio del fiume annuì. Ercole morì fra atroci sofferenze. Quando Dejanira capì cosa aveva combinato, sì, Achelou si tracciò una linea sul collo. È orribile, mormorò Piper. E qual è la morale, mia cara? Chiese Achelou. Alla larga dai figli di Zeus. Piper non riusciva a guardare Jason. Non sapeva se sarebbe stata capace di mascherare l'inquietudine nei propri occhi. Certo, Jason non sarebbe mai stato come Ercole, ma quel racconto rinvigorì tutte le sue paure. Hera aveva manipolato la loro storia, proprio come aveva manipolato Ercole. Piper voleva credere che Jason non sarebbe mai stato spinto da una follia omicida come Ercole. Però neanche quattro giorni prima era stato posseduto da un Eidolon e per poco non aveva ucciso Persi. Ercole è un dio adesso, riprese Achelou. Ha sposato Hebe, la dea della gioventù, eppure non sta quasi mai a casa. Vive su quest'isola e fa la guardia a quelle stupide colonne. Lui sostiene che sia Zeus a imporglielo, ma io credo che preferisca stare qui piuttosto che sull'Olimpo, a coltivare l'amarezza e a rimpiangere la propria vita mortale. La mia presenza gli ricorda i suoi fallimenti, soprattutto la donna che alla fine lo uccise. E la sua presenza mi ricorda la povera Dejanira, che avrebbe potuto essere mia moglie. L'uomo toro diede un colpetto sulla pergamena che si arrotolò su se stessa e sprofondò nell'acqua. Ercole vuole avere l'altro mio corno per umiliarmi. Forse si sentirebbe meglio con se stesso, sapendo che sono triste anch'io. E poi, il corno si trasformerebbe in una cornucopia. Dal suo interno sgorgerebbero cibi e bevande deliziose, proprio come il mio potere fa sgorgare il fiume. Ed Ercole terrebbe la cornucopia per sé. Sarebbe una tragedia e uno spreco. Piper sospettò che il rumore del fiume e il suono sonnolento della voce di Achelò le stessero ancora influenzando i pensieri. Ma non poteva fare a meno di essere d'accordo con lui. Cominciava a detestare Ercole. Il povero uomo toro sembrava così triste e solo. Mi dispiace, Achelò. Sinceramente hai avuto una fregatura, disse Jason. Ma forse... Beh, senza l'altro corno non saresti così squilibrato e potresti sentirti meglio. Jason! protestò Piper. Il figlio di Giove sollevò le mani. Era solo un'idea. E poi non mi sembra che abbiamo molte alternative. Se Ercole non avrà quel corno, ucciderà noi e i nostri amici. Ha ragione lui. Non avete alternative, disse il Dio del fiume. E per questo spero che mi perdonerete. Piper aggrottò la fronte. Achelò sembrava così straziato che lei ebbe voglia di dargli un buffetto sulla testa. Perdonarti per cosa? Neanch'io ho un'alternativa, dichiarò Achelò. Devo fermarvi. Il fiume esplose e un muro d'acqua si abbatté su Piper.